salva tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sembrerebbe che dj ai al contrario di quello che aveva dichiarato stia per rilasciare secondo alcune indiscrezioni le sdk per lui il dj ai mini 3 e dj ai mini 3 però questi due droni che riceveranno molto probabilmente le sdk già da aprile quindi fra un paio di mesi circa gli sviluppatori potranno inserire questi droni all'interno delle loro applicazioni quindi per noi utenti ci sarà la possibilità di utilizzare l'applicazione maven l'applicazione laici o l'applicazione auriga quindi questa applicazione di terze parti che ci forniscono comunque funzioni interessanti che l'applicazione dj fly non ci da con queste invece applicazioni terze parti potremo divertirci un casino soprattutto poi adesso che abbiamo un drone 249 grammi che ha i sensori anti collisione nella versione pro è ovviamente sto parlando avere la possibilità di pianificare un volo con i point avendo un drone con il sensore anti collisione sicuramente tanta tanta roba rispetto a prima che con il mini 2 avevamo ovviamente un po di stato d'ansia quando usevamo appunto la funzione e la pianificazione di volo con e un point quindi non vedo l'ora che arrivino queste sdk perché comunque le indiscrezioni sembrano ufficiali cioè rilasciate appunto da dj ai che sembra decisa a rilasciare appunto per questi piccoli droni e sembrerebbe che in questa sdk non sia incluso il mavic 3 quindi parliamo solo di mini 3 e mini 3 però però io mi accontento già di questi perché comunque sono i droni che hanno più bisogno magari di un'applicazione di terze parti per fare determinate cose questo era solo un video veloce per darvi questa comunicazione che sicuramente tanti di voi apprezzeranno perché ormai queste applicazioni di terze parti sono in grado di darci delle funzioni pazzesche ai nostri piccoli droni consumer e il video vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime mi raccomando seguitemi sul mio profilo instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostene questo canale dove posso tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video